Si scaldano i motori, ne è vista della mezza due laghi, è calendario per il 5 di marzo. Paolo avete raccolto una sfida qualche anno fa, adesso c'è da vincere questa sfida. Sì, qualche anno fa, poi alla fine non siamo riusciti a partire subito per via del covid, insomma tutte le complicanze che ci sono state, però siamo arrivati ai 25 anni, quest'anno il nostro lavoro è stato solo di due o tre anni, però abbiamo voluto raccogliere questa sfida perché come dicevo, tempo addietro, la gara più longeva e più storica del BCO, parlando di una gara podistica, certificata e sotto una federazione, dal mio punto di vista non poteva morire e quindi abbiamo volentieri raccolto il testimone, lo stiamo portando avanti tutt'oggi. Che mezza sarà? Sarà una mezza, io la definisco una mezza del territorio, perché è una mezza veramente dedicata a chi risiede nel territorio, è una mezza che non ha un livello tecnico altissimo, anche se è comunque una mezza veloce e corribile, perché è proprio dedicata, o perlomeno quella che è la nostra visione, vogliamo dedicarla agli atteti del territorio. Tutto era cominciato nel 1996, quest'anno la mezza maratona compie di fatto 25 anni, perché arriva la 25esima edizione, qual è stato il percorso di questi 25 anni? Beh, il percorso di questi 5 anni diciamo che è stata una cosa entusiasmante. Mi ricordo quando abbiamo cominciato, abbiamo deciso nel 95, l'anno prossimo facciamo la mezza maratona, anche noi. Siamo andati a fare una maratona a Carpi e alla fine abbiamo smontato l'arrivo, l'abbiamo portato a casa col pullman. Questo qua abbiamo cominciato così veramente. Poi piano piano, piano piano siamo cresciuti, siamo arrivati ad avere più di 1000 atleti, ultimamente il nostro target era circa sui 700 e abbiamo sempre fatto una gara di qualità, con dei tempi che variavano tra un'ora e uno e un'ora e cinque minuti, che vuol dire già essere dei corridori di elite a livello internazionale. Vanno in una storia di sport, di agonismo, però anche di condivisione, di preparazione, di amicizie, lo si vede da queste maglie, da queste foto. Sì, siamo riusciti ad andare avanti con 70 anni, anche perché abbiamo avuto tanti amici che danno l'altro in una mano.